Questo Natale cambia musica! Per il regalo perfetto lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Era stato più volte preannunciato e nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. I vogheresi torneranno alle urne il 29 gennaio 2017 per scegliere il nuovo sindaco della città. Questo ballottaggio che arriva dopo la sentenza del Tar, confermata dal Consiglio di Stato, che ha colto il ricorso di Ghezzi che denunciava irregolarità nel conteggio dei voti, vedrà sfidarsi Carlo Barbieri, candidato di Forza Italia, e Pierezzo Ghezzi, sostenuto dal Partito Democratico e dalla lista civica che porta il suo nome. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.